ciao a persone meravigliate di questo canale stavo facendo un po di prova di trucco e ho risolto di approfittare ci sono un pochettino truccata più o meno così e registrare questo video praticamente oggi mattina mi è arrivato un pacco e io vorrei aprire con voi e questa cosa qua questo prodotto diciamo ho visto già nei canali di tante persone e poi sono andata a guardare in questi giorni cosa che non faccio mai era andata a guardarla mia mail e ho visto che mi salvano che mi vorrebbero inviare anche a me quindi ho risolto di provare aspetta un attimo che prendo qua bene mi è arrivato e quel dispositivo della confer sarebbe un unboxing però in realtà mio marito aveva già aperto perché stavamo aspettando una scatola per i canne di cose e quindi mi è arrivato questo qua io vi apro mi è piaciuto tanto anche la scatola nel senso che ce l'hanno loro è fatta bene si può anche usare dopo per te magari non si può lasciare qua dentro usare anche per altre cose e praticamente come mi è arrivato questo dispositivo il corso qua è tutto se non mi sbaglio cinese io non capisco vado a capire queste lingue però io ho già passato un traduttore che cielo nel telefono se mi ricordo che praticamente tu metti soltanto la foto così google in qualcosa del genere poi se mi ricordo di metto qua è arrivato questa questi fogli così che spiegano un po le cose che c'è anche in inglese perché sa già inglese che manuale loro mandano così in cinese però se voi aprite girate già in inglese non c'è in italiano non c'è niente scritto in italiano però come vi ho detto ce n'è quello questo applicativo che è questa applicazione che si può fare le cose poi la cosa interessante a mi è arrivato anche questa borsa per mettere il dispositivo questo sacchetto in realtà che io lo metto lo lascerò sempre qua dentro preferisco perché prendi meno spazio che queste scatola c'è il caricatore c'è questa spina qua che è una spina internazionale penso che americana queste spina non lo so in bradillo non usiamo così usiamo più simile alla vostra però mi è venuto anche insieme un adattatore giusto è un adattatore che ci sono tutti i buchi quindi si può anche utilizzare per portare da un altro paese poi la cosa che mi è piaciuto anche tantissimo è il colore perché mi piace tanto questo colore un po nudi nudi però con qualcuno c'è questo qua un colore di peli nel senso qualcuno c'è questo colore e poi lui lui acqua tutte le funzionalità io ho visto che c'è l'edici nel senso ho dato una guardata così per auto nell'applicazione ho visto che si può curare i brufoli macchie di pelle invecchiamento queste cose io farò tutte queste prove e poi faccio un video e spiegano come è stata la mia e mi utilizzo io in questo momento li utilizzerei per i brufoli qua o come ho messo un po di trucco però si mi avvicino potete vedere che c'è un po di brufoli ho sempre avuto problema con i brufoli sono alti bassi nella mia vita dipende dai momenti che io faccio una fermata di usare acidi o medicine per fermare i brufoli ho avuto anche un acne nell'epoca adulta con 22 anni che mi ha cominciato non avevo tanto da ragazza però ha avuto un'alchina davvero grave e ho dovuto usare tre tinoina a un per cento nel viso per un bel po di tempo è però quello mi ha anche aiutato con delle rughe da fronte e mi è venuto anche che non è qui vado a prendere è il l'acido penso che sia un acido aspettate un attimo che li prendo ok lasciato che è arrivato è questo almeno qua dice che è una e un essenza però non so davvero si è acido acido io qua della formulazione ho visto che c'è acqua di serina sodio ea neuronico amminoacidi è estratto di aloe vera una cosa qua che non ho capito cos'è carboni fenofe fenoce è stato un incidente il gatto non voleva prendere queste spugne qua e mangiarlo fino a mangiarlo no mordicchi alla fine sporcare tutta la casa come lui a parte delle spugne ragazzi mio gatto c'è un problema nel senso non può vedere che sia di viso e spugnete di video tutto e lui di vedi lui lo vuoi prendere immordicchiarla e fai sembra e non lo so nell'altra vita qualche spugna non ha fatto qualcosa perché non ho mai visto una rabbia poi io apro adesso questo coso qua perché voglio vedere anche la nel senso che qua dice che è un'essenza e questa essenza si dovrebbe mettere qua e poi quando tu accendi tutto per fare i massaggi queste cose e c'è anche l'applicazione l'applicazione praticamente tu segui quello che dice l'applicazione però come già detto non ho ancora usato in questo video di di dopo di queste cose non ho guardato da nessuno non ho voluto guardare perché volevo vedere la pasticchina nella mano che era appiccata poi praticamente non va a uscire quasi che rompevo e viene così mi ha detto l'applicazione è più un gel luminoso se pian di luci poi lucidini della mia mano e vicini che c'era già dalla mano sarà e adesso la facciamo testare con questo ok erano dei lucidini che stavano i diti sporco dei cose dell'occhio quindi praticamente tipo sai un sero sai quella testura di serum di serum chi più che essenza e senza di solito più a corso meno quelle che ho usato io sono più a corso e lo metti questo serum qui fai trattamento tutto questo perché mi ha portato solo problemi poi qua c'è tutto quello che c'è scritto dietro se non mi sbaglio sì sì quindi non posso buttare e quindi ragazzi era questi video io sto qua già come sono sono una di note e vorrei ringraziarti per aver guardato questo video io tra un mese non dico nel senso un mese un mese in mezzo ritorno per fare i video dicendo cosa e come si è cambiato qualcosa la mia peri si è migliorato no la cosa che mi posso dire che di solito tutti i trattamenti di pelli deve usare almeno tre mesi per dire se ha funzionato quindi probabilmente io posso tornare tra un mese dopo anche dopo tre mesi per dire se ha funzionato tutto io lascerò qua nei commenti il link del sito se qualcuno lo vuoi acquistare lo vuoi guardare non lo so vedere le funzionalità il sito è in italiano però nel senso almeno di quello del link che ho preso in italiano le metterò questo link e poi nei prossimi video farò vedere l'applicazione tutte le cose come lo avrò utilizzato perché ci sono tante funzionalità anche dentro dell'applicazione e stessa della compa e ci sono anche gli altri prodotti di loro un bacione e alla prossima